Musica Musica Ragazzi che ne dite come prima volta nel deserto? Benvenuti a Las Vegas! Aspetta che ti riprendo, zia! Zia, ma sei contenta? Tantissimo! Ragazzi, ma dove siamo finiti? Abbiamo solo salito delle scale! Questo è il secondo piano! Ma non si credo! Oh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla fine tutto il mondo è il paese. Benvenuti a Venezia. Ah, quella gondola con i redi è un po' tamarra, ma va bene così, l'accettiamo. Alla fine. 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 visitato questo andiamo a fare un attimino la spesa per i prossimi giorni andiamo sull'insegna di las vegas perché tutti fanno la foto e quindi perché noi no e poi andremo alla diga uber molto 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 famosa anche perché è compassa in tanti film americani e poi dritti al zio dal format guardate che fila guardate che fila che c'è per fare la foto davanti all'insegna principale di las vegas ragazzi voi non potete immaginare quanto caldo fa praticamente non si fa neanche in tempo a sudare che già evapora tutto ho le labbra sentissime non ne parliamo comunque dai adesso alla prossima tappa no one's looking at us just to make a break bugger turned the shifter and he said nicks nicks i wanna stick around i wanna get my kicks let rock everybody let rock everybody know se